da ringraziare in quanti festeggierei e ringraziare sicuramente l'organizzazione che poi alla scelta di Palazzo Panigi la trovo ottima anche perché è accanto a Casania ed è un luogo estremamente piacere quindi ben fatto, bravi Parente di Emerson? Parente Parente di Emerson Non brava come lui a guidare però Cognomen Omen Notaio Notari in realtà è rimasto saputo che era appassionato di alpinismo quindi vabbè quindi le regalo lo striscione rogito ergo sum cosa dire? Basta adesso non diciamo più Ha intenzione di darsi una calmata per questa sera Le chiedo se ha delle dediche lei, insomma, professionista però immagino avrà tutta una squadra come? Anziano Per le dediche Voi che operate nel fintech che password usate voi generalmente? Uno, due, tre La fidanzata, il figlio non fate quei mischioni maiuscolo Chissà cosa immaginavo Vabbè Vi aspettiamo fuori non come si diceva alle medie vi aspetto fuori vi aspettiamo fuori con un altro obiettivo per uno scatto in relax Noi siamo venuti a riceverlo senza merito perché purtroppo qualcuno ancora ha il covid quindi al nome dell'avvocato Marco Giustiniani Per rimanere sul pezzo Per rimanere sul pezzo in base alla vostra motivazione La crociera premio scattata una visita guida Niente Non c'è speranza, niente Magari Picnic all'idroscalo a Remis L'idroscalo a Remis Quello, quello il vogatore in palestra Io ricevo la mail inglista ogni due settimane Ah ok, ok Un'ovvia liaison professionale immagino Io quando sento parlare di Opa mi si drizzano le antenne questo è il mio biglietto quando c'è un'altra uno squillo così un'amicizia senza impegno Fosseggiamo in silenzio Sobretà Fosseggiamo in silenzio Va bene Tutta la serata e anche domani per deliberare Saremo in silenzio Intanto vi facciamo tanti complimenti E il cast invece dello studio Per quanto avvenenti sono colleghe di lavoro Quindi non hanno partecipato come cast del film Loro malgrado L'imprenditore di questa ristrutturazione il giorno che ha firmato la domanda di Concordato ha detto ora vado a casa e mi faccio una verticale di vodka Come se la passa l'intelligenza artificiale? Beh, molto meno intelligente di quello che si pensi anzitutto però è artificiale davvero Grazie a tutti